Ci stiamo addentrando sempre di più in quella che è la stagione dei premi e infatti il video di oggi sarà un classico video di commento alle candidature ai BAFTA, una delle cerimonie più importanti proprio di questo periodo dell'anno, preparatoria, mettiamola così, a quelle che poi sarà la notte degli Oscar, tanto che infatti nel momento in cui sto registrando questo video, tra qualche giorno verranno pubblicate le candidature ufficiali agli Oscar e quindi cominceremo a fare dei ragionamenti ben precisi. Però prima di iniziare io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, molti di voi guardano i miei video senza essere iscritti quindi se volete aiutare il canale a crescere ancora di più iscrivetevi, attivate anche la campanella, poi se volete anche aiutare questo video a smuovere un po' l'algoritmo di YouTube lasciate un like, commentatelo con la vostra opinione su quelle che sono le candidature che andremo un po' a commentare, condividete il video ovunque vogliate e poi in descrizione vi ricordo anche che trovate i link della mia pagina Instagram, della mia pagina Facebook e del mio canale Telegram se volete mi potete seguire anche lì. Mi scuso come sempre ancora un po' per la voce nasale ma sono reduce da 15 giorni di influenza che a poco a poco però sta per fortuna mi auguro abbandonandomi. Quello di oggi come vi dicevo sarà il classico video di commento a quelle che sono le candidature rese ufficiali per quanto riguarda i BAFTA, una cerimonia di premiazione ricordiamola inglese quindi di stampo anglosassone che per quanto chiaramente è diversa da quelle che sono le altre cerimonie di premiazione di questo periodo, dai Golden Globe, ai Critics Choice Awards, chiaramente diversi anche dagli Oscar però come sempre succede ogni anno risultano essere appunto propedeutici preparatori a quello che cominceremo a vedere, a sentire e poi cominceremo anche a commentare tra qualche giorno proprio nel momento in cui avremo le candidature ufficiali per quanto riguarda gli Oscar. La notte degli Oscar è sempre più vicina ormai manca meno di due mesi perché se non ricordo male credo sarà nella notte tra il 10 e l'11 di marzo quindi stiamo ormai giungendo a quella che è la notte più importante da un punto di vista delle premiazioni, poi so che in tanti snobbano gli Oscar e non gliene frega niente, lo so benissimo però è pur sempre una notte di cinema da vivere in maniera intensa oggi andiamo a commentare le candidature ai BAFTA, ovviamente andremo rapidamente spulciando quelle che sono le varie categorie, chiaramente non mi addentrerò nel commentare ogni singolo film anche perché altrimenti il video durerebbe due ore e inoltre alcuni dei film che sono in gioco in realtà ancora io non li ho visti o perché magari sono usciti da poco in sala qui in Italia o perché ancora in Italia non sono proprio usciti quindi non mi posso dilungare più di tanto, ecco non posso addentrarmi più di tanto nella valutazione partiamo da quella che è la categoria regina, miglior film, quindi nella categoria miglior film i film candidati ai BAFTA sono Anatomia di una caduta, The Old Overs, lezioni di vita, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Povere Creature di questi film io purtroppo per adesso ho visto soltanto Killers of the Flower Moon e Oppenheimer The Old Overs è uscito qui in Italia da qualche ora nel momento in cui sto registrando questo video ed è uno dei film che spero di poter recuperare il prima possibile, anche se dovrò attendere qualche giorno sicuramente così come anche Povere Creature di Yorgos Lantimos in Italia ancora in questo momento non è uscito se non ricordo male dovrebbe uscire il 25 di gennaio, non vorrei sbagliarmi, altro film chiaramente che attendo con tanta curiosità, Anatomia di una caduta purtroppo io non ho avuto la possibilità di vederlo in sala quando è stato distribuito alcune settimane fa, un paio di mesi fa se non ricordo male siccome al momento non è neanche stato distribuito in streaming, non è neanche presente in un video devo un po' rimandare la visione di questa pellicola ma se non ricordo male agli inizi di febbraio dovrebbe sbarcare in DVD e in Blu-ray, quindi teniamo d'occhio questo film perché comunque ne sentiremo parlare secondo me in maniera importante anche in ottica Oscar passiamo alla miglior regia, in questo caso i film candidati, quindi con i relativi registi sono Estranei, All of Us Strangers, credo sia il titolo originale Anatomia di una caduta, The Old Overs, Lezioni di Vita, Maestro, Oppenheimer e La zona di interesse chiaramente ci sono anche in questo caso dei film che io ancora non ho recuperato come per esempio La zona di interesse, Maestro invece vi ricordo è presente su Netflix Anatomia di una caduta l'abbiamo già detto e anche Estranei, film quindi che ancora devo recuperare risulta essere particolarmente lampante, eclatante, devo dire, clamorosa l'assenza nell'ambito appunto della categoria miglior regia l'assenza sia chiaramente di Martin Scorsese per quanto riguarda la regia di Killers of the Flower Moon e l'assenza anche di Yorgos Lanthimos non c'è neanche Greta Gerwig che non era presente neanche con il suo film Barbie nella categoria miglior film, chiuso a parentesi, però io credo che sia davvero ai limiti del clamoroso scandaloso l'assenza sia di Scorsese che di Lantimos soprattutto perché è presente Bradley Cooper e come ho avuto modo di dire anche nelle settimane scorse questo film è da tenere d'occhio perché ha tutte le caratteristiche per poter piacere alle varie commissioni in quelle che sono le varie cerimonie di premiazione soprattutto in ottica Oscar, film che secondo me non meriterebbe comunque tutta questa attenzione chiusa parentesi per quanto riguarda il miglior attore categoria miglior attore abbiamo Bradley Cooper per Maestro Coleman Domingo per il film Rustin Paul Giamatti per The Old Overs Barry Keoghan per Saltborn Killian Murphy per Oppenheimer ed infine Theo Yu per Past Lives anche in questo caso ci sono dei film che non ho visto The Old Overs e Past Lives gli altri invece li ho già recuperati o in sala o attraverso la distribuzione in streaming per intenderci Saltborn in Italia non è arrivato in sala non è arrivato al cinema lo trovate su Prime Video film inguardabile però Barry Keoghan grandissima prova la sua quindi ci sta che sia stato candidato come miglior attore Coleman Domingo per Rustin un film che vi consiglio di recuperare su Netflix perché probabilmente anche in questo caso ne sentiremo parlare e poi abbiamo Paul Giamatti che sta tra l'altro spopolando con questo film The Old Overs che appunto mi incuriosisce Tio Yo per Past Lives che non ho ancora recuperato e Killian Murphy che probabilmente è da considerare il favorito numero uno anche se ripeto bisogna stare attenti a Paul Giamatti miglior attrice nella categoria miglior attrice abbiamo Fantasia Barrino credo sia questa la pronuncia per il film Il Colore Viola Sandra Huller per Anatomia di una Caduta Carey Mulligan per Maestro Vivian Opera per Ritrovarsi in Raya Lane Margot Robbie per Barbie e Emma Stone per Povere Creature di Yorgos Lanthimos anche qui alcuni film non li ho visti come Il Colore Viola che deve ancora essere distribuito Anatomia di una Caduta come vi ho detto Ritrovarsi in Raya Lane e Povere Creature che arriverà a breve abbiamo Margot Robbie per Barbie abbiamo Carey Mulligan per Maestro che io ho considerato uno dei pochissimi aspetti davvero positivi di quel film la prova di Carey Mulligan e poi abbiamo Emma Stone che viene considerata da tanti la favorita per quanto riguarda questa stagione dei premi proprio per quanto riguarda la sua prova nel film di Yorgos Lanthimos staremo a vedere miglior attore non protagonista i candidati sono Robert De Niro per Killers of the Flower Moon Robert Daniel Jr. per Oppenheimer Jacob Elordi per Soulburn Ryan Gosling per Barbie Paul Mescal per Estranei All of Us Strangers il titolo che avevamo detto poc'anzi e Dominic Sessa per The Old Overs Killers of the Flower Moon l'ho visto Oppenheimer pure Soulburn e Barbie ok mi mancano The Old Overs e Estranei io qua chiaramente l'ho già detto e mi sbilancio nuovamente io faccio il tifo durante questa come dire annata dei premi faccio il tifo sfegatato per Robert Daniel Jr. che già si è aggiudicato diversi premi quindi spero davvero tanto che questa possa essere l'annata giusta per lui per davvero trionfare anche in ottica Oscar staremo a vedere sono contento chiaramente anche per Robert De Niro un po' meno chiaramente per Ryan Gosling e per Jacob Elordi perché i film non mi sono piaciuti granché miglior attrice non protagonista abbiamo Emily Blunt per Oppenheimer Daniel Brooks per Il Colore Viola Claire Foy per Estranei Sandra Huller per La Zona di Interesse Rosamund Pike per Soulburn e Da Vin Joy Randolph per The Old Overs anche qui alcuni film come vi ho detto mi mancano in tanti considerano Da Vin Joy Randolph la grande favorita per quanto riguarda proprio la categoria miglior attrice non protagonista tanto che infatti si è già giudicato il Golden Globe in tanti la considerano la favorita anche in ottica Oscar chiaramente altri film li devo ancora recuperare Rosamund Pike non mi ha assolutamente convinto in Soulburn molto meglio chiaramente Emily Blunt per Oppenheimer per gli altri film chiaramente attendo di vederli migliore sceneggiatura originale quindi abbiamo la classica distinzione che avremo anche in ottica Oscar abbiamo i film candidati sono Anatomia di una caduta Barbie The Old Overs Maestro e Past Lives ne ho visti due su cinque Maestro non mi ha convinto Barbie non mi ha convinto quindi confido ovviamente in quelle che sono le pellicole che ancora mi mancano e da quello che appunto si capisce sia Anatomia di una caduta potrebbe essere il grande favorito anche in ottica Oscar così come anche The Old Overs quindi film che è vero spero di poter recuperare il prima possibile migliore sceneggiatura non originale Estranei i film candidati sono Estranei American Fiction Oppenheimer Povere Creature è la zona di interesse quindi anche qui purtroppo l'unico film che ho visto è Oppenheimer tra quelli che ho elencato teniamo d'occhio anche American Fiction perché in tanti lo stanno in qualche modo mettendo nel mirino come possibile mina vagante nell'ambito della migliore sceneggiatura non originale Povere Creature chiaramente di Lantimos deve ancora uscire stesso discorso vale per me il fatto che debba recuperare sia Estranei sia sia la zona di interesse quindi staremo a vedere Miglior film inglese questa chiaramente è una categoria che ritroviamo soltanto nei BAFTA quindi una cerimonia inglese ovviamente Miglior film inglese abbiamo Estranei Come fare sesso Napoleone La vecchia quercia Povere creature Ritrovarsi in Raya Lane Saltburn Scrapper Wonka e la zona di interesse quindi di alcuni di questi film posso parlare perché li ho visti tra l'altro sono contento per la presenza di Wonka un film che forse è stato troppo rapidamente bistrattato anche dalla critica non tanto dal pubblico perché ha avuto comunque un discreto successo a me è piaciuto come ho avuto modo di dire nella mia video recensione Saltburn chiaramente non mi ha convinto mi ha convinto purtroppo molto poco anche Napoleone e poi gli altri film devo ancora recuperarli quindi mettiamoli anche questi nella nostra personale lista delle pellicole da vedere se li avete già visti chiaramente fatemi sapere senza spoiler qui sotto nei commenti la vostra opinione poi abbiamo la categoria miglior film non inglese abbiamo 20 giorni a Mariupol anatomia di una caduta vite past lives è stato tradotto ma credo sia quello appunto la società della neve e la zona di interesse ora la società della neve è un film che spero di poter vedere il prima possibile perché è presente su Netflix stesso discorso vale anche per gli altri purtroppo di questi film io non ne ho visti neanche uno quindi devo purtroppo rimandare quelle che sono i miei giudizi miglior film animato miglior film animato prevede la presenza di Spider-Man Across the Spider-Verse Elemental Galline in fuga L'alba dei nugget e Il ragazzo è l'airone di questi film ho visto solo Elemental e Il ragazzo è l'airone mi manca ancora il nuovo Spider-Man Galline in fuga non l'ho visto ora per quanto Spider-Man da quello che si dice potrebbe essere il favorito perché è davvero spettacolare è straordinariamente messo in scena io tifo spudolatamente per Il ragazzo è l'airone che ha avuto la possibilità di vedere proprio in questi giorni credo che in questi giorni arriverà anche la video recensione perché mi sono deciso comunque a farla non c'è molto da dover ancora metabolizzare è un film che credo debba essere davvero metabolizzato e rivisto tante volte quindi tanto vale comunque iniziare a parlarne dovrebbe arrivare a breve quindi la la video recensione miglior documentario andiamo rapidi perché comunque qui non so parlarne quindi abbiamo la presenza di 20 giorni a Mariupol quindi un documentario American Symphony Beyond Utopia Steel e Michael J. Fox Movies e WOM credo sia un film documentario dedicato appunto alla band dei WOM abbiamo Steel e Michael J. Fox Movies quindi se non ricordo male è il documentario che appunto ha realizzato lo stesso Michael J. Fox parlando di quella che è la sua vita la sua situazione purtroppo anche clinica gli altri purtroppo non li conosco ma ripeto andiamo avanti perché poi i documentari sono sempre una categoria un po' come dire che io metto un po' da parte perché non riesco mai a guardarli neanche in ottica Oscar e quindi per questo motivo non mi dilungo più di tanto Miglior Casting il Miglior Casting è una categoria che agli Oscar non avremo ma li abbiamo avuti se non ricordo male anche ai Golden Globe non vorrei sbagliarmi ma comunque il Miglior Casting prevede la presenza dei film Estranei Anatomia di una caduta di Old Overs come avere sesso come avere sesso come fare sesso comunque e Killers of the Flower Moon mi sorprende l'assenza di Oppenheimer che ha un cast davvero spettacolare purtroppo di questi film ho visto solo Killers of the Flower Moon ma non credo che vincerà questo non sono dell'idea che possa giocarsela per quanto riguarda il cast però ecco teniamo d'occhio anche questo teniamo d'occhio come sempre di Old Overs e Anatomia di una caduta Miglior Montaggio quindi andiamo ad esplorare un po' le categorie tecniche abbiamo Anatomia di una caduta Killers of the Flower Moon Oppenheimer Povere creature La zona di interesse alcuni film mi mancano ma devo dire che il montaggio nel film Oppenheimer sicuramente gioca un ruolo fondamentale proprio anche nella narrazione nell'andare a raccontare quella che è la storia di Oppenheimer secondo quelle che sono le tre linee temporali che probabilmente ricorderete Killers of the Flower Moon chiaramente il montaggio anche qui è un elemento fondamentale come sempre succede tra l'altro nei film di Scorsese per gli altri film ovviamente mi devo un po' fermare nel dare dei giudizi quindi staremo a vedere Migliori costumi per i migliori costumi i film candidati sono Barbie Killers of the Flower Moon Napoleon Oppenheimer e Povere Creature tutti i grandi film devo dire mi manca ancora chiaramente Povere Creature però ho già visto chiaramente Barbie tra gli aspetti diciamo meno negativi sicuramente i costumi possono essere presi in considerazione grande il lavoro dei costumi anche in Napoleon per esempio in Killers of the Flower Moon in Oppenheimer mi appunto devo soltanto rivedere vedere anzi scusate Povere Creature però diciamo che il parterre di film candidati come migliori costumi è un bel vedere da questo punto di vista migliore sonoro per il migliore sonoro abbiamo la presenza dei film Ferrari prima candidatura tra quelle che abbiamo sinora letto Maestro Mission Impossible Dead Reckoning che ricordiamo nelle ultime ore è stato in qualche modo reintitolato senza parte 1 quindi adesso si chiama Mission Impossible Dead Reckoning fine perché poi il prossimo film si chiamerà in un'altra maniera Oppenheimer è la zona di interesse migliore sonoro quindi io credo che Oppenheimer non dovrebbe avere rivali è anche vero che mi mancano ancora alcuni film tra questi anche in Ferrari ovviamente il sonoro ha una sua rilevanza però davvero quello che è stato fatto in Oppenheimer è qualcosa di gigantesco sia come sonoro sia anche come colonna sonora e ci arriveremo tra poco migliori effetti speciali i film candidati sono The Creator Guardiani della Galassia Volume 3 Mission Impossible Dead Reckoning Napoleon e Povere Creature non abbiamo la presenza di Oppenheimer ed è pur vero che in qualche modo Christopher Nolan si è vantato nel corso dei mesi di avere fatto un utilizzo davvero scarso ridotto degli effetti speciali della computer grafica quindi diciamo che il ragionamento potrebbe anche starci per quanto riguarda questi film ne ho visti alcuni mi mancano come sempre Povere Creature Mission Impossible Guardiani della Galassia Volume 3 ovviamente effetti speciali che rappresentano una delle caratteristiche principali del film stesso The Creator diciamo che gli effetti speciali sono più che buoni ma il film nel complesso non mi ha entusiasmato Mission Impossible mi manca appunto Napoleone ci può anche stare soprattutto per quelle che sono le scene in esterna con quella che è stata la gestione soprattutto delle scene di battaglia di alto livello anche qui uno dei pochi aspetti positivi di questo film ed infine credo sia l'ultima sì ma credo non ci sia la colonna sonora tra le varie candidature non so perché comunque l'ultima candidatura l'ultima categoria per quanto riguarda appunto i BAFTA è rappresentata dal premio assegnato dal pubblico i Rising Star per diciamo delle attrici degli artisti giovani soprattutto e abbiamo Phoebe Dinevor non so davvero chi sia Ayo Ebedibiri Ebedibiri scusate che è l'attrice di The Bear per intenderci Giacob Belordi Mia McKenna Bruce e Sophie Wilde quindi con questa categoria perché ripeto non ho trovato la colonna sonora non so se sia un errore del sito che sto in questo momento esplorando ma non c'è la migliore colonna sonora ma tante queste sono le categorie che appunto ho avuto modo di leggervi e di commentare insieme a voi fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere ovviamente se avete già visto alcuni dei film che vi ho elencato quali sono i vostri favoriti quale preferite maggiormente quale sperate appunto che possa giudicarsi qualcuna delle candidature e delle premiazioni che abbiamo appunto preso in considerazione tutto fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri se dovessero esserci degli aggiornamenti sulla colonna sonora eventualmente ci aggiorniamo anche qui qui sotto nei commenti perché è qualcosa di strano non mi ricordo nei BAFTA non c'è la migliore colonna sonora ma tante quindi ci riaggiorniamo qui sotto io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto quindi per aiutare il canale a crescere ancora di più attivate la campanella poi se il video vi è piaciuto lasciate un like commentatelo condividetelo la mia pagina facebook della mia pagina instagram e del mio canale telegram quindi vi invito ad iscrivervi anche lì poi trovate la mia wishlist amazon se volete farmi un regalo un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto in maniera completamente automatica e poi trovate anche delle altre modalità per fare delle piccole donazioni al canale qualora lo vogliate io vi ringrazio nuovamente ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti